un grande benvenuto a tutti voi sono roberta sono a castello romano e sono il bellissimo negozio di walford in compagnia di francesca benvenuta benvenuti a voi francesca grazie per averci accolto grazie per averci spalancato le porte di questo tempio della femminilità amiche qui c'è da perdere la testa rimanete con noi parliamo di walford un grandissimo brand internazionale di bianche denti ma non solo molto di più e poi ve lo voglio dire subito all'inizio perché rimanete con noi c'è una grandissima promozione in esclusiva soltanto per voi care amiche di gm24 una promozione in esclusiva sulla lingerie per cui abbiamo il 3x2 ovvero assolutamente sì quindi acquistando due capi di lingerie il terzo meno caro passa se non mangio fantastico e questa è soltanto una delle promozioni in esclusiva per voi vogliamo raccontare subito chi è walford quando nasce assolutamente sì walford nasce nel 1950 a breggens in austria siamo nati con le nostre meravigliose calze per poi allargarci con una vasta gamma di prodotti quindi per quanto riguarda la lingerie e anche l'abbigliamento offriamo proprio dal 1950 lo skin wear più raffinato al mondo che si può tradurre appunto come lo strato più vicino alla pelle quindi regala una sensazione di comfort non solo quando si tocca al tatto ma anche quando si indossa che bello io non vedo l'ora di mostrarlo alle nostre amiche comfort e praticità lusso e questa parola poi ci piace il lusso però accessibile quello che veramente diciamo tutte quante noi possiamo finalmente indossare vogliamo scoprire qual è il primo prodotto assolutamente sì allora cominciamo lo prendo io sì con questo magnifico reggiseno il nostro microfibre una microfibra che io vorrei proprio invitarvi a provare a casa perché di una morbidezza e qui proprio capisco quello che stavi dicendo il concetto di seconda pelle esattamente regala questa sensazione di comfort perché questo modello rimane molto ultraleggero per questo jersey di microfibra e sostenuto da questo ferretto e anche dall'elastico come possiamo vedere rifinito con il nostro logo io lo voglio togliere dalla stampella perché mi piace poi toccare proprio le cose maneggiarle ecco qui voglio far vedere proprio l'elasticità la morbidezza facciamo vedere anche la banda posteriore perché sai noi donne col reggiseno non è facile non è facile la scelta perché soprattutto il sostegno è trovare un reggiseno che sostenga bene in questo caso abbiamo trovato l'alleato perfetto perché oltre a avere il sostegno dal ferretto lo abbiamo anche dall'elastico ecco sto vedendo questa banda elastica che è molto morbida non stringe assolutamente però sostiene bella alta e qui abbiamo anche queste fasce laterali come le possiamo chiamare delle vere e proprie alleate esatto delle ali laterali assolutamente sì questa ampiezza è funzionale anche sì perché comunque tende ad abbracciare anche magari un decolleté anche più prosperoso che questo tipo di reggiseno abbraccia qualsiasi tipologia di decolleté dal più minuto fino ad arrivare al più prosperoso senti come scelgo la taglia quindi allora le coppe è tutto dato dalla circonferenza e dalla coppa ovviamente questo modello offre dalla circonferenza più piccola quindi dalla 70 fino ad arrivare all 85 quindi più o meno calza fino parlando in termini di s diciamo fino a una large in questo caso però per quanto riguarda la circonferenza perché per la coppa arriviamo a una coppa e quindi una coppa molto più abbondante quindi andiamo a vestire anche un seno più prosperoso assolutamente sì quant'è il prezzo di questo reggiseno allora dal prezzo del 108 e per voi 70 euro fantastico in più ripetiamolo c'è la promozione speciale quindi prendendone due pezzi il terzo meno caro vi passa in omaggio quindi possiamo fare un completino e adesso lo andiamo a fare tanto volevo sapere in quali altri colori è disponibile anche nero quindi abbiamo questo rosa cipria vediamo anche questo magnifico nero perché poi quest'anno la biancheria intima si si propone anche con delle colorazioni di base come le tendenze moda vogliono però proprio la tendenza moda primavera e estate sono questi colori più basi più termi questo qui può essere un sostituto del color carne in questo caso quindi per chi non è amante del color carne può assolutamente scegliere il rosa cipria perché non si vede sotto le maglie trasparenti o bianche diciamolo proprio anzi è consigliabile se andiamo a mettere il reggiseno bianco in realtà sotto il bianco si vede quindi scegliamo questo rosa che poi è bellissimo che possiamo anche mostrare magari sotto una camicia magari sotto un blazer aperto e sì vogliamo dare anzi proprio una dritta alle nostre amiche certo assolutamente sotto magari anche una giacchetta di pelle o un una maglia un pochino più morbida si può fare intravedere il reggiseno adesso in questo caso abbiamo un basico ma possiamo anche usare con un po' di pizzo che rende il tutto molto particolare ma ci piace femminilità gogo beh walford nasce proprio per con le sue proposte avvolgere il corpo della donna valorizzarlo metterlo in risalto e qui abbiamo delle proposte davvero eccezionali allora questo è il reggiseno ripetiamolo ancora una volta il prezzo scontato è di 80 euro e in più c'è la possibilità di risparmiare ultimamente acquistiamo risparmiando come è possibile eh sì tu ne acquisti due e il terzo te lo regaliamo noi mi sono messa in mezzo lo regaliamo noi però allora questa è la proposta con diciamo una leggermente imbottito rimane leggermente foderato ma non ha push up perfetto quindi lo scollo rimane leggermente un pochino più avvolgente abbraccia di più il decollete magari rispetto a uno scollo del push up che rimane un po' più profondo ok per chi non ama magari l'imbottitura eccessiva però secondo me proprio per questa leggerissima imbottitura correggimi se sbaglio è giusto sia per un seno più piccolino perché comunque è preformata esattamente esattamente di conseguenza mette bene risalto ma anche un seno un po' più prosperoso comunque esatto perché tende a non fare troppo volume ingiusto e poi lo contiene molto bene mi sembra grazie anche alla presenza di queste fasce laterali esattamente di queste fasce laterali più l'elastico quindi per quelle donne che magari hanno anche un seno leggermente più laterale vero quando chi ha un seno magari più laterali questo è perfetto perché avvolge sia la coppa e sia le ali che abbiamo laterali poi adesso che arriva l'estate il reggiseno così pulito così esatto e leggero soprattutto è leggero è l'ideale sotto le t-shirt per esempio sotto quelle magliette di garza di lino proprio sottilissime e anche in trasparenza mi piace perché qui sì perché comunque rimane un bel reggiseno anche da vedere sotto una maglia assolutamente anche in tulle una maglia in tulle bello assolutamente sì allora questa è la proposta quindi leggermente foderata ma per le amiche che invece amano un reggiseno ancora più leggero quasi invisibile esatto per chi non è amante della coppa c'è il reggiseno sfoderato quindi abbiamo sempre dello stesso tipologia di tessuto quindi sempre ultra leggero spalline regolabili sempre rifinite con il nostro logo e anche qui l'elastico è lo stesso ah quindi proprio la stessa banda laterale esatto e però la coppa è completamente diversa perché com'è fatta questa? in questo caso è sfoderata quindi non ha questa leggermente imbottitura quindi è proprio una seconda pelle questo veramente è freschissimo super leggero per l'estate anche e soprattutto è perfetto anche per chi ha un seno un po' più prosperoso è assolutamente perfetto e qui abbiamo sempre il sossegno del ferretto del ferretto esattamente quindi è dato tutto il sossegno dal ferretto e sempre dall'elastico due colorazioni anche in questo caso? rosa cipre e nero e vi ricordo sempre la promozione il prezzo per chi però volesse acquistare soltanto questo reggiseno qual è il prezzo? sempre scontato del 35% partendo dai 180 in retail 70 euro 70, soltanto 70 euro quindi qui parliamo anche di quella che è la qualità dei tessuti che utilizza Walford perché sono proprio dei tessuti che durano nel tempo assolutamente sì uno studio molto importante io so che c'è proprio tutto un settore che va a studiare selezioniamo proprio i materiali più pregiati proprio per garantire questa durabilità nel tempo è molto importante perché quando acquistiamo un reggiseno lo scegliamo con cura vogliamo che duri nel tempo e lavandolo anche con che tipo di manutenzione? lo si può lavare sia a mano che a lavatrice a 30 gradi quindi proprio tranquillissimo ma poi un reggiseno come questo soprattutto poi in estate gli diamo una sciacquadina e lo mettiamo anche il giorno dopo ma se io volessi fare proprio un abbinamento quindi scelgo il reggiseno con coppa diciamo preformato senza coppa con che slip lo vado ad abbinare? abbiamo due tipologie in questo caso sia la versione perizoma che è questa qui stesso colore poi a noi piace tanto fare anche gli abbinamenti volendo se vogliamo fare l'abbinamento con il nero possiamo scegliere sia la mutandina esattamente sia la slip normale che anche in questo caso il perizoma esattamente e richiama proprio l'elastico che troviamo sotto il ferretto allora vediamo bene questa mutandina che mi piace tantissimo allora sempre microfibra sempre microfibra esattamente sempre microfibra con l'elastico ultramorbido quindi non dà proprio questo senso di comfort senza dare compressione sempre rifinito con il nostro logo e eccoci qua quindi rimane avvolgente comunque senti ma è a vita alta? in questo caso no rimane un vita media quindi una vita una demi vita quindi proprio a metà ecco lo vedete esatto rimane una vita normale volevo sentire questa cosa è molto elastico molto elastico molto elastico ultra leggero allora sai cosa mi piace il fatto che questa banda elastica a volte l'elastichino quello più sottile si vede così come anche le cuciture qui abbiamo proprio uno slip una mutandina in questo caso che è come una seconda pelle nel vero senso della parola che possiamo usare anche per fare sport secondo me assolutamente sì perché comunque è un tessuto che rimane anche traspirante quindi sendo così leggero analergico traspirante che sai la microfibra non tutti la conoscono ma in realtà è un tessuto proprio studiato studiato apposto in questo caso soprattutto rimane un tessuto molto leggero quindi anche per gli amanti dello sport lo possono utilizzare tranquillamente senti allora abbiamo detto no non abbiamo ancora detto il prezzo in questo caso andiamola a vedere allora per il perizoma partiamo dai 54 euro prezzo retail e 35 prezzo outlet ovviamente è sempre valida la promozione quindi se noi andiamo a acquistare potremmo fare un reggiseno e due slip magari una mutandina più classica non so anche per fare sport e invece il perizoma perizoma perfetto per i vestiti esatto se magari abbiamo un pantalone in particolare un vestito e ci occorre magari una cucitura magari piatto comunque poco visibile lo slip eccolo qui eccolo qui assolutamente perfetto no ma io penso all'estate quando andiamo a indossare quei vestitini un po' più stretti un po' più aderenti un po' più leggeri ci serve lo slip adatto ci serve perfettamente proprio lo slip così e questa colorazione il colore rosa facciamolo vedere ancora rosa che poi è un rosa cipria molto molto delicato perfetto proprio per l'estate perfetto per questi abiti un po' più trasparenti anche sul bianco allora a me piace da morire adesso io voglio far rivedere l'abbinamento voglio far rivedere l'abbinamento sia con il reggiseno senza coppe allora ricordiamo il prezzo di questo reggiseno era allora partivamo dai 180 da retail e 70 per quanto riguarda il prezzo 70 euro più la mutandina 30 euro esatto siamo a 100 euro e acquistandone due il terzo è gratis ecco perché vi voglio far vedere questa cosa quindi vado ad acquistare magari un bel completino intimo ma non vado a casa con due articoli vado a casa con tre questa è soltanto una delle tante promozioni in esclusiva per voi amiche che ci seguite da casa voi amiche di GM24 soltanto per voi questa opportunità ma non finisce qui non finisce qui perché 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 abbiamo anche il body eh sì vogliamo veramente essere stupende è arrivato il momento di rifare il nostro guardaroba intimo e quindi ecco possiamo davvero sfogarci con la qualità mi piace ripetere il fatto che Wolf rappresenta proprio il lusso si è proprio ritaglia diciamo vado ad occupare questa nicchia molto importante la nicchia del lusso accessibile per cui abbiamo tantissima qualità la praticità il comfort proprio top quality la funzionalità la funzionalità anche però possiamo diciamo arrivarci anche noi grazie poi a questa promozione ancora di più eccoci io sono impazzita per questo body ditemi se non è favolo ditemelo guarda guardiamolo adesso ce lo racconti benissimo perché questo è stupendo allora abbiamo un mix di materiali esattamente abbiamo sempre un jersey con queste rifiniture anche in tool quindi c'è un gioco di contrasto facciamo vedere la trasparenza aiutami facciamo vedere proprio le bande laterali guardate ecco qui invece abbiamo nella parte proprio davanti anteriore questa microfibra esattamente elastica morbida una seconda pelle toccatela provatela a casa vostra è veramente meraviglioso con un motivo a corsetto hanno fatto proprio un motivo a corsetto queste cuciture vero? esattamente queste cuciture qui sono come quindi questo lo possiamo mettere anche sotto un blazer aperto tipo giacca da camera sì con un cardigan con una giacca una giacchetta in ecopelle può essere utilizzato quindi come lingerie sì ma anche come capo d'abbiamento anzi se avremmo pure molto elegante con un bel ora voglio dire adesso non lo posso mettere con un bel pantalone ma guardate anche con il mio pantalone in raso esattamente stupendo e attenzione abbiamo le coppe in questo caso preformate esattamente sempre coppa preformata con le spalline regolabili sempre definite con il nostro logo in questo caso sono anche removibili quindi ci fai vedere? sì ok eccoci qua io posso togliere la spallina e quindi e si valorizza il décolleté e lo scollo a cuore veramente e va tantissimo di moda sì sì super chic ancora una volta sotto una giacca penso anche una bellissima gonna tubino per esempio stretta stretta una gonna vitalta una vita alta sì con un jeans qualsiasi cosa cioè questo tra l'altro è adatto a tutte le età dalle ragazze più giovani che secondo me sono a caccia tra l'altro di questi capi alle donne più raffinate attenzione vi faccio vedere la chicca mi piace da morire ecco questo scollo particolare sullo scollo quanta femminilità veramente in questo body è stupendo allora guardiamo la parte posteriore è tutta in tulle esattamente è tutta in tulle comunque rimane sgambato sì in questo caso abbiamo anche un effetto shape di questo body quindi tra le tante funzionalità c'è anche l'effetto shape cosa vuol dire effetto shape? modellante quindi vuol dire che è anche leggermente modellante nella zona dell'addome quindi oltre a essere bellissimo abbiamo anche la funzionalità ecco quindi abbiamo praticità comfort funzionalità femminilità perché questo body veramente di femminilità ne ha da vendere e volevo far vedere la chiusura bene perché nella parte posteriore eccola qui funziona né più né meno come un reggisino una chiusura una chiusura a due ganci sempre con il tulle quindi super pratico e ha tutto lo scollo che parte in fondo bellissimo lo stavo immaginando con una gonna lunga una gonna in raso in seto oppure in chiffon in fondo molto morbide sì sì perché è bellissimo anche lo potremmo portare proprio così a vista tanto nella parte posteriore abbiamo questo tulle estate insomma è meraviglioso e laddove deve coprire copre e però per chi vuole usare un po' sulla schiena può utilizzare questo body ma se lo metto con un pantalone insieme il pelle esagero assolutamente no esagero si può usare tranquillamente possiamo usare certo magari per una serata speciale ma assolutamente un'occasione usciamo vogliamo un aperitivo un aperitivo non vogliamo passare in osservate ma sempre con classe ci tengo a sottolinearlo perché qui abbiamo tanta classe e tanta eleganza se io volessi acquistare questo body sì come scelgo la taglia però allora in questo caso bisogna tenere conto sia per la misura del corpo più della coppa per il seno ok quindi se siete una small ma avete una coppa magari un pochino più abbondante quindi di una terza magari andiamo su una S coppa C una S coppa C ah perfetto perché mi devo anche devo sempre considerare la esatto la coppa la coppa per formare fino a che taglia arriviamo in questo caso arriviamo fino alla D ah invece D ah ok faccio fino alla D quindi vuol dire parlare un seno molto più prosperoso un seno bello quindi da più minuto fino al prosperoso ok il prezzo è 120 euro ma attenzione sto parlando sempre del prezzo scontato dal prezzo outlet perché il prezzo pieno è 185 euro quindi da 185 euro oggi lo puoi acquistare a 120 euro ma in più c'è la promozione c'è la promozione Francesca ma con che cosa lo possiamo abbinare questo body meraviglioso allora per fare il match completo con il modellante abbiamo la gonna modellante la gonna modellante assolutamente fammela vedere è stupenda eccoci qui ah proprio una vera e propria gonnellina esatto elasticizzata in cupro è un tessuto una fibra è una fibra naturale traspirante che non si elettrizza con gli altri tessuti ah fantastico ok è molto utile senti è una gonna proprio semplicissima da indossare esattamente non ha bottoni non ha cuciture assolutamente molto elastica e va a modellare proprio la zona della pancerina ok dei fianchi e delle cosce quindi vuol dire che io mi posso sbizzarrire finalmente a mettere i vestitini quelli di aderenti quel vestitino che era rimasto lì nell'armadio o trasparente o trasparente ma a me piace il modellante quindi quel vestitino che non indossavo più perché vedevo quella ciccettina che fuori usciva ecco questa gonnellina modellante va proprio ad appiattire la zona del ventre zona dei fianchi e delle cosce quindi va a avvolgere restringere sempre con morbidezza ripetiamole perché tutte le proposte di Walford sono delle proposte estremamente confortevoli pratiche proposte per mettere in luce per esaltare la nostra silhouette la femminilità di noi donne e per dare il diritto a tutte la possibilità di indossare un bel abitino allora questo per quanto riguarda una proposta diciamo super modellante sexy e femminile allo stesso tempo e volendo però questo body cioè per approfittare della promozione possiamo anche acquistare altre due pezzi di lingerie certamente ok se volessimo fare un total look per esempio black vado ad acquistare a prendere il reggiseno il reggiseno eccolo qui oppure posso abbinare gli slip posso abbinare la mutandina quella più classica oppure il perizoma perché vi ricordo che soltanto per voi in esclusiva c'è il 3x2 sulla lingerie quindi acquisto due prodotti e il terzo ve lo regaliamo noi quanto mi piace dire questa cosa no vabbè ma è stupendo è bello anche approfittarne noi in primis e ancora un dettaglio su questo body voglio farvi vedere la parte posteriore perché è veramente super super femminile questo tool e questo scolle è veramente particolare meraviglioso allora quindi parlando della promozione posso scegliere uno di questi due colori esattamente questi due body perfetto abbinarlo con uno slip scelgo il perizoma scelgo la mutandina classica ma proprio a noi che piace avere i coordinati anche io e vado ad acquistare anche il reggiseno io questo colore lo trovo fantastico quindi un po' diverso rispetto al carne sì perché non a tutti piace il color carne quindi è molto delicato questo rosa cibo poi laddove volessimo metterlo in evidenza con l'estate abbiamo anche l'abbronzatura certo che risalta ancora di più risalta da morire ora è chiaro che noi stiamo presentando tutta quanta la lingerie però in realtà dal Walford possiamo fare il total look anche con altri casi vestiamo la donna dalla testa ai piedi esatto e quindi per esempio io voglio spolerare ancora qualche cosa poi magari ne riparleremo con una maglia qui parliamo di bundles giusto come questo che è un body poi alla fine è un body smanicato in microfibra molto morbido sembra vellutato al tatto sì e in questo caso rimane con un girocollo comunque un pochino più accollato sia davanti che dietro e questo qui è un jolly per tutti i giorni comunque perché sia dall'ufficio al fuori ufficio una serata o per un aperitivo perché no anche qui però volendo abbiamo una promozione perché io ne posso acquistare due uguali magari di due colori diversi giusto? certo sì perché abbiamo anche il nero abbiamo il nero anche il bianco e il blu sono due a 129 e si può scegliere sia per lo smanicato che per il manica corta ah quindi io posso fare anche degli accoppiamenti differenti scelgo uno smanicato e lo accoppio con una manica corta e usufruisco della stessa scontistica certo perché ve li ho fatti vedere perché mi piace l'idea di abbinare questi tessuti meravigliosi ancora una volta morbidissimi una seconda pelle con un reggiseno come questo e veramente c'è un effetto che non si vede esatto c'è proprio effetto seconda pelle proprio un effetto seconda pelle lo skin wear strepitoso posso abbinare anche colori differenti? sì assolutamente di questa maglieria si può fare nero rosso c'è anche il blu e il bianco quindi possiamo usare con tutti i colori possiamo usare veramente con tutti i colori qui abbiamo un bello scollo morbido vorrei far vedere proprio l'elasticità allunghiamolo perché qui c'è un'elasticità meravigliosa guardate che cos'è è un body in questo caso com'è la chiusura? perizoma una chiusura a gancio a bottone e perizoma ecco quindi una chiusura estremamente comoda questo rimane bello aderente sì ha una vestibilità aderente questo è perfetto veramente da mettere con qualsiasi cosa da una gonna a tubino a un pantalone anche più morbido anche come quello che indossi che rimane più morbido anche sulla parte finale è un jolly per tutti i giorni poi lo possiamo utilizzare ovviamente come sotto giacca in quelle giornate un po' particolari in cui fa ancora leggermente il freschetto che ancora il tempo incerto questo tempo che non ci fa capire niente che non sappiamo più assolutamente come una giacchetta di jeans anche perché no certo perché comunque sì sì mi piace anche con la giacchettina di jeans io li utilizzo molto proprio nelle mezze stagioni esatto anche come sotto camicia esattamente esattamente perché sento sempre a voler avere questa parte qua riparata le taglie come sono? allora partono dalla XS fino alla L ok l'XS cosa veste? una 38? una 38 come me ok quindi tu porti la XS fino alla? fino alla L arriva fino alla L quindi parliamo di una 50 più o meno per capire 46 ah una 46 però io vedo che sono molto molto elasticizzati assolutamente sì quindi qui abbiamo proprio quel concetto di seconda della pelle che è qualche cosa di qualche cosa da trovare ecco io voglio dirvi lo dovete provare a casa vostra perché soltanto sì perché una volta che si prova non se ne fa più o meno sì io credo di sì proprio Walford qui rappresenta davvero la differenza ma d'altro canto c'è un grande studio alle spalle assolutamente diciamo delle tecnologie estremamente avanzate per creare questi filati assolutamente anche nella ricerca del modello le proposte sono molto innovative molto innovative proposte all'avanguardia è per questo che Walford ha un seguito pazzesco veramente un brand internazionale ricordiamolo ancora una volta che nasce in Austria in Austria Braggens sono stati due visionari proprio a crearlo sì Walford hai capito un brand di intimo creato da due uomini esatto si sono uniti qualizzati perché sapevano che tipo di donna volevano avevano le idee ben chiare possiamo dirlo loro sapevano esattamente la donna femminile sicuramente assolutamente però anche una donna pratica come siamo poi noi donne moderne non rinunciamo alla femminità ma siamo anche pratiche vogliamo anche il comfort essere anche sensuali essere anche molto sensuali con Walford noi riusciamo ad ottenere tutte queste cose la sensualità la comodità la praticità quindi il lusso tra l'altro se c'è qualche signore maschietto che ci sta guardando fate anche qualche regalo perché vi assicuro che noi donne apprezziamo tantissimo tantissimo allora ricordiamo ancora una volta la promozione per quanto riguarda questo tipo di maglieria esatto per quanto riguarda lo smanicato che si pone con il mezzamanica sono 2 a 129 2 a 129 quindi che sconto abbiamo? è del 20% ah uno sconto del 20% se a questo abbinate lo sconto alla biancheria dove vi ricordo che in esclusiva per noi o meglio in esclusiva per voi amiche che ci seguite c'è lo sconto del 3x2 acquisti due prodotti di biancheria intima e il terzo te lo regaliamo noi allora voglio far vedere no abbiamo fatto vedere tutti quanti i modelli perfetto e ti ricordo che puoi abbinare lo smanicato a mezzamanica con la mezzamanica abbiamo anche la manica lunga di questo? sì che ha un'altra promozione ha un'altra promozione esattamente allora quello lo vediamo un'altra volta intanto io volevo ringraziarvi tutte quante amiche per averci seguito e ti ringrazio Francesca grazie a te naturalmente ciao